Musica Ciao ragazze, eccomi qui con un nuovo video questa volta ho deciso di premiare ancora una volta una di voi questa volta non con un giveaway ma con un'altra modalità che avevo già utilizzato in questo modo allora io praticamente come avevo spiegato in altri video ho detto che la ragazza, le persone che comunque fedelmente che mi seguono e sono attivi sul canale riceveranno ogni tot, ci sarà questo regalo per voi riceveranno dei regali da me, da parte mia questa volta il premio andrà sempre solo ad una persona ma saranno due premietti il primo regalo che riceverà è questo gel cleansing della Essence nella linea Maskin questo è quello al lime e cetriolo e sono 150 ml di prodotto eccolo qua, scadenza a 12 mesi quindi questo è in più poiché la prima volta che ho fatto scusate la batteria allora stavo dicendo stavo dicendo poiché l'altra volta che ho fatto questo regalo ha riscosso un successo abbastanza elevato ecco, praticamente cioè, diciamo, è piaciuto e poiché l'ho ritrovato l'ho ricomprata e questa volta andrà ovviamente alla mia miglior fan ed è una palettina della Deborah sono 8,64 grammi di prodotto scadenza a 24 mesi non ve lo faccio vedere perché tanto non lo vedrete però vi faccio vedere la palette la palette è questa come vedete è nera lucida se c'è qualche impronta sono le mie e qui, ecco qua vedete, 8,6 grammi di prodotto scadenza a 24 mesi la palette aperta si presenta in questo modo allora, ha uno specchio abbastanza grande dall'altro lato sto cercando di tenere la plastichina ferma in modo tale da non rovinare gli ombretti ci sono 4 ombretti sulle tonalità del rosa che partono dal più chiaro fino ad arrivare al munghiola più scuro allora, quindi stavo dicendo facendo scorrere gli ombretti ci sono i 3 lucidalabbra rosa, bianco e fucsia volevo solo farti notare che quello fucsia oddio, come faccio? qui sopra ho una piccola come dire toccatina allora, non l'ho fatta io ma nel rimettere l'applicatore la commessa ha toccato leggermente il lucidalabbra quindi spero che non sia un problema perché alla fine non è stato toccato dalle dita di nessuno e spero che non sia un problema comunque i premietti per per te che ancora non sappiamo chi è sono questi quindi la palettina della Deborah più il gel della essence e niente in primis ti dico e ti ringrazio per la tua presenza sul canale e per il fatto che comunque sei attiva ecco questo premio va a te perché comunque sul canale sei attiva non è un modo per non è assolutamente un modo per come si dice arruffianarmi gli iscritti no assolutamente è un modo per premiare comunque quelle persone che sul canale hanno piacere a starci e a seguirmi quindi la persona che vincerà che riceverà questi premi questo regalo non lo chiamiamo premi che riceverà questo regalo è jovilet333 e niente contattami con un messaggio privato e ti spedisco i premietti scusami ancora per il lucidalabbra e niente questo è il premio per jovilet spero che comunque nonostante tutto continuerà a a seguirmi e a restare attiva sul canale anche perché spero anche per le altre anche perché non è cioè è un è un regalo e quindi lo farò ogni qualvolta mi sento di fare un regalo ad una persona in questo momento mi sento di farlo a lei perché comunque è sempre presente e comunque è attiva e parliamo a livello cioè ci scambiamo commenti quindi discutiamo ed è per questo questo è il rapporto che mi piace che si sta creando appunto su youtube e spero che spero che continui e niente un bacio e al prossimo video ciao ragazze ciao